Massimo Giuseppe Bossetti, l'uomo accusato dell'omicidio di Iara Gambirasi, oggi ha rotto il silenzio durante l'udienza di convalida del fermo nel carcere di Bergamo. Quella sera ha spiegato l'avvocato di Bossetti, l'uomo era a casa con il telefono spento perché scarico. Questo ha spiegato al GIP. Non riesce però a giustificare perché il suo DNA sia stato trovato sugli slip della giovane uccisa. Ha dichiarato con forza la sua innocenza, lui è totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati. Lui non conosce Iara, non ha mai visto Iara se non dopo ovviamente essere apparsa sui giornali e sui media. L'uomo non frequentava la famiglia Gambirasio, l'unico contatto tra loro era venuto per motivi di lavoro su un cantiere e aveva parlato con il padre di Iara. Bossetti ha detto di non avere mai conosciuto la tredicenne e si è detto sconvolto per la scoperta del suo vero padre avvenuta in seguito agli accertamenti sul DNA. È stato confermato che il DNA non è quello del signor Bossetti. Lui sapeva di essere figlio di un'altra persona. No, non lo sapeva, lo ha preso stamattina. A parlare oggi è stata anche la sorella gemella del presunto killer Laura Letizia. Lo conosco meglio di chiunque altro, ha detto siamo cresciuti insieme e so che non farebbe male a una mosca. È un bravo padre, un grande lavoratore. È stato incastrato.